Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Benvenuti al meteo, situazione ancora buona sul nostro territorio dove l'alta pressione si mantiene stabile. Vediamo il dettaglio di venerdì 9 ottobre. Sul Veneto cielo da poco a parzialmente nuvoloso con vari spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi ma senza piogge. Al mattino in pianura e nei fondovalle non si escludono locali nebbie. Temperature ancora stazionarie, minime tra i 9 e i 12 gradi, massime invece tra i 19 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento. Al pomeriggio locali annuvolamenti con cielo a tratti coperto. Temperature minime fino a 13 gradi, massime sui 20 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sole prevalente, cielo sereno poco nuvoloso. Anche qui non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime sui 10 gradi, massime invece fino a 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto. Io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Società agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.